Buon pomeriggio dalla redazione, vediamo insieme i titoli di prima pagina. L'operazione congiunta della squadra mobile di Agrigente di Ragusa ha portato all'identificazione al fermo di due siriani ritenuti responsabili per aver condotto i migranti sbarcati dalla nave Operanz e condotti poi a Pozzallo. Si è scontato con lo scooter contro un palo in Viale Castagnola nel quartiere Librino a Catania, ha perso la vita così con Cetto Giuffrì da 41 anni, a bordo dello scooter anche una donna trasportata all'ospedale in gravi condizioni. Sospesi i lavori previsti per oggi a Marina di Marza e riferimento a Canaloni e alle SAI a darne notizie a un gruppo di residenti, da quando si apprende il comune sta avviando delle interlocuzioni per risolvere il problema. Oggi a Ragusa il Clou dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, i momenti più significativi della festa verranno trasmessi in diretta a Mondovisione dalle telecamere di video mediterraneo a partire dalle 18.15. Questi principali argomenti tra pochi secondi, una nuova edizione di MTG. Buon pomeriggio e ben trovati a una nuova edizione di MTG in apertura alla cronaca. Parliamo dello sbarco della Open Arms perché con un'operazione congiunta delle squadre mobili di Agrigento e di Ragusa sono stati identificati due presunti scafisti siriani. I dettagli da Marco Scavino. Si chiude il cerchio sullo sbarco della Open Arms dei giorni scorsi. La Polizia di Stato infatti ha concluso le indagini sull'arrivo all'hotspot del comune di Pozzallo dei migranti sbarcati a Lampedusa. All'hotspot di Pozzallo infatti nei giorni scorsi era arrivato un gruppo di migranti e dalle indagini promosse dalla Polizia di Stato, dalla squadra mobile della costura di Ragusa è stato possibile risalire all'identità degli scafisti. Dalle indagini infatti è emerso come il gruppo di migranti abbia indicato due siriani come responsabili dell'imbarcazione nei momenti della navigazione. Uno era alla guida del timone, l'altro invece con la bussola, con il satellitare. La squadra mobile di Ragusa e Agrigento hanno concluso le indagini insieme, un rapporto sinergico che ha portato all'individuazione dei due scafisti siriani indagati adesso di aver favorito l'ingresso di numerosi migranti. I soggetti fermati hanno 34 e 25 anni. La Procura della Repubblica di Agrigento, dopo aver valutato le fonti di prova raccolte dalla Polizia di Stato, ha disposto il fermo dei due migranti siriani. Dalle testimonianze è emerso che i migranti hanno dovuto pagare 1000 euro in media per raggiungere l'Europa. Sono 366 i migranti arrivati nel 2019 a Pozzallo in occasione di 5 arrivi, 11 i fermati. Tra questi c'è anche un minorenne. 38 i fermati invece nell'anno prima, nel 2018, e sempre nel 2018 arrivarono 3.800 persone. Ancora sangue sulle strade, ieri pomeriggio nel quartiere Librino di Catania un uomo in sella allo scooter è andato a impattare contro un palo morendo sul colpo. Da chiarire ancora le cause dell'incidente, probabilmente alla velocità elevata che ha fatto perdere all'uomo il controllo del mezzo. Gravissima la donna che viaggiava con l'uomo in sella allo scooter. Forse l'alta velocità, forse un momento di distrazione. Ciò che è certo è che l'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro che ha perso la vita ieri lungo il viale Castagnola nel quartiere di Librino a Catania. La vittima è Concetto Giuffrida, 41 anni. Dalle prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Municipale e dalla Polizia di Stato intervenute insieme ai soccorsi, pare che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo in una curva a pochi passi dalla stazione di polizia. Lo scooterone su cui viaggiava ha urtato contro il marciapiede perdendo il controllo. L'uomo ha prima abbattuto la testa contro il palo della fermata dell'autobus, poi contro un lampione dell'eliminazione nelle immediate vicinanze, fracassandosi il cranio. Concetto Giuffrida sarebbe morto quindi sul colpo. Inutili tentativi di rianimazione del 118. A bordo dello scooter vi era anche una donna trasportata all'ospedale in gravi condizioni, ma non sono coinvolti altri veicoli. Pare però che il centauro e il passeggero non indossassero il casco protettivo al momento dell'incidente, dal momento che sul posto non è stato ritrovato nessun casco. Restiamo a Catania. Un 48enne è stato arrestato per maltrattamenti, in particolare si accaniva contro la ex moglie, aggredendola. Moglie e figli erano diventate le sue vittime. È stato arrestato un 48enne di Catania per maltrattamenti in famiglia. L'uomo era già stato ammonito dal questore di Catania. Nonostante ciò però il catanese non ha inteso sentire ragioni e ha continuato a perseguitare la moglie. Invece, proprio nella sua convinzione di passare impunito, nonostante appunto avesse già l'ammonimento da parte della questura, ha continuato a perseguitare la vittima anche nel pomeriggio di ieri, seguendola mentre si stava recando in questura per chiedere un inasprimento della misura, terrorizzata dalle continue e incessanti minacce che l'uomo non ha mai smesso di rivolgerle. È finito così in manette, senza comprendere che la cieca violenza nei confronti della ex lo aveva portato a consegnarsi all'uomini della questura, proprio mentre innanzi agli agenti inveiva contro la ex moglie, offrendo ai poliziotti la possibilità così di arrestarlo in flagranza di reato e condurlo così presso gli uffici della questura, dove è stato formalizzato l'arresto. Per l'uomo, 48 anni, di Catania, il pubblico ministero di turno ha disposto la sotto posizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. La donna e i suoi figli sono stati affidati agli esperti della divisione anticrimine, ufficio minori e vittime vulnerabili della questura, che adesso intraprenderanno ogni iniziativa di protezione nei confronti del nucleo familiare a garanzia della loro sicurezza. E arriva un primo bilancio dell'attività della questura di Catania in riferimento all'operazione Catania Sicura, che ha preso vita lo scorso 2 luglio. E' la sinergia, la formula che ha permesso a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Forze dell'Ordine, che ogni giorno si spendono per la sicurezza delle persone, a rendere ancora più incisiva l'azione dell'operazione Catania Sicura, predisposta dalla questura di Catania, che oggi manda un primo bilancio dell'attività che ha preso vita dal 2 di luglio e che ha chiuso come primo bilancio, ovviamente, il 20 di agosto. Sono 3.198 i veicoli controllati, 2.486 le persone identificate, 1.855 le contravvenzioni alle norme del Codice della Strada elevate. Tra esse, 642 hanno riguardato il mancato utilizzo del casco alla guida dei motoveicoli. Indagate in stato di libertà 28 persone, sequestrati fermati amministrativamente, ben 935 veicoli, il 30% circa del totale dei veicoli controllati, effettuati 23 sequestri penali, controllati, sanzionati e diffidati, 74 posteggiatori abusivi, quest'ultimi in caso di recidiva saranno denunciati all'autorità giudiziaria. Inoltre sono stati disposti i servizi di prevenzione e di controllo del territorio nell'ambito dell'azione per il contrasto del fenomeno della prostituzione, storicamente presente nelle strade del centro catenese, comprese tra Corso Martiri della Libertà, Via Sturzo e Via Ventimiglia, con grave pregiudizio per il decoro urbano e per la fruibilità dei luoghi. A scendere in campo, con servizi dispiegati in orari serali e notturni, i polizotti della questura, i militari, dei carabinieri e gli agenti del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale, insieme ai equipaggi della polizia locale, con l'aspetto attinente al rispetto delle norme del codice della strada e per il presidio del territorio. Anche l'ultima settimana, appena terminata, ed è qui che termina questo primo bilancio dell'attività dell'operazione Catania Sicura, ha mostrato il trend che già si era confermato nella prima parte dell'operazione a luglio. Una media che supera il 63% dei veicoli controllati, in riferimento alle infrazioni del codice della strada rilevate, 94 i veicoli controllati, 14 delle contravvenzioni fatte hanno riguardato il mancato uso del casco alla guida dei motoveicoli, 8 hanno sanzionato invece la mancata assicurazione obbligatoria del veicolo e 3 la guida senza patente. In totale sono stati sequestrati fermati amministrativamente 14 veicoli. I controlli automatizzati dei veicoli effettuati col sistema Mercurio si contano in numero di 326, si legge in una nota della Questura. Questi controlli continueranno. E controlli anche al quartiere Pizzo di Modica, la pulizia municipale ha sanzionato i trasgressori della zona traffico limitato e controllato il quartiere, anche in riferimento ad alcune segnalazioni per quanto riguarda fenomeni di inciviltà. Dopo le numerose segnalazioni ricevute, il comando di Polizia Locale di Modica ha predisposto un servizio accurato di controllo del quartiere Pizzo nella parte alta della città di Modica. L'attenzione è stata posta tutta su Piazza Principe di Piemonte, conosciuta come la Piazzetta del Pizzo. Erano stati i cittadini a segnalare in più occasioni episodi di maleducazione e di inciviltà da parte di alcuni ragazzi con i motorini. Dai motorini scorrazzanti a schiamazzi di giovani che, in più di un'occasione, hanno disturbato la normale quiete della zona. L'area, inoltre, è una ZTL e i frequentatori, che hanno determinato episodi di inciviltà, non erano neanche residenti, ma nonostante il divieto facevano ingresso nella piazzetta con i motori dando vita a numerosi rumori. L'area è sottoposta a videosorveglianza da qualche giorno, sottolineano dal comando di Polizia Locale. L'attività, posta in essere dagli uomini del comandante Cannizzaro, ha portato al sequestro di un motociclo per guida senza casco, più sanzioni per la mancanza di autorizzazione di accesso all'area e, dunque, la violazione della ZTL stessa. Nella stessa giornata sono state contestate tre sanzioni nel corso di un posto di controllo con autocivetta per uso del cellulare alla guida. Questa mattina all'alba degli ignoti si sono introdotti nella tenuta del parlamentare Pippo Giannuso in Contrada San Basilio, in territorio di Ispica, e hanno avvelenato i cani che facevano da guardia all'abitazione. Un gesto intimidatorio, ha dichiarato il deputato all'Ars, sentito da noi che ha sposto denuncia ai carabinieri della stazione di Ispica che stanno conducendo le indagini per risalire agli autori di questo macrabo gesto. Il deputato regionale all'Ars per Popolari Autonomisti di Sicilia ha dichiarato di essere stato oggetto già in passato di altri gesti intimidatori legati alla sua attività imprenditoriale più che a motivazioni politiche. Di questo passo, se va bene, l'autostrada Ragusa-Catania sarà pronta nel 2030. Queste le parole contenute in una nota stampa diffusa da Italia Comune che lancia anche una provocazione definendo l'infrastruttura inutile su cui i politici vogliono costruirsi consensi. Quando fu pensato oltre 20 anni fa l'aeroporto di Comiso non esisteva, l'autostrada Siracusa già la si fermava a Cassibile e l'autostrada Catania-Siracusa era ancora in costruzione. Oggi la situazione è del tutto cambiata, si vola da Comiso e fra un paio d'anni a 20 chilometri da Ragusa ci sarà un casello autostradale, quello di Modica, che ci porterà a 30 chilometri all'ora fino a Messina, passando per Siracusa e Catania. Ma si continua a parlare dell'autostrada Catania-Ragusa come di un'infrastruttura indispensabile. Queste le parole contenute nel comunicato stampa a provocazione di Italia in Comune, in cui si sottolineano gli aspetti negativi dell'infrastruttura che, a detta di Italia in Comune, è sopravvalutata. Italia in Comune dice «è probabile che completata l'opera ci accorgeremo che è inutile, finora nessuno ha cercato di far luce sui reali costi, sui tempi di realizzazione e sui disagi. Se si prende come riferimento l'infrastruttura più importante in fase di realizzazione, la pedemontana Veneta, super strada a pagamento, si nota che finirà per costare alla Regione Veneto quattro volte il preventivato. Di questo passo, se va bene, l'autostrada Ragusa-Catania sarà pronta nel 2030. Per non parlare degli enormi disagi a causa dei cantieri sull'attuale sede stradale, tutto per risparmiare, se va bene, 20 minuti. Se poi questo risparmio lo si vuole calare sui lunghi tragitti, come quelli delle merci che partono da Vittoria per il Nord Italia, prosegue la nota, parliamo del nulla. Meglio investire sui porti e far viaggiare le merci via mare, su un'opera del tutto inutili, i politici di ieri, ma quelli di oggi anche, vogliono costruirsi il consenso alle campagne elettorali, non dicendo la verità ai cittadini, inseguendo degli idoli. Italia in Comune sottolinea anche la situazione delle strade provinciali in condizioni pietose, quelli che utilizzano la stragrande maggioranza dei cittadini siciliani. E poi ci sono delle strade incompiute di competenza dell'ANAS, come l'Agrigento Caltanissetti e l'Agrigento Palermo, che vale la pena di completare prima di iniziarne una nuova. Italia in Comune attacca anche il ministro delle infrastrutture Toninelli, per il fatto di aver detto solamente che si farà con i fondi ANAS, non indicando però dove troverà nei prossimi anni 2 miliardi di euro. A questo punto puntiamo sull'autostrada modica Siracusa, dice Italia in Comune. Facciamo una battaglia per la manutenzione dei 1000 km di strade provinciali in condizioni pietose, per la messa in sicurezza dei tratti più pericolosi della strada statale per Catania e della SS 115 e per una nuova ferrovia da Comisa a Vizzini e da lì a Catania. Le vere opere utili ai cittadini e all'ambiente, conclude la nota di Italia in Comune. E torniamo a parlare di infrastrutture, delle piano infrastrutture previsto per il territorio della provincia di Ragusa, perché sono 13 milioni e 400 mila euro i fondi destinati anche per ricostituire il fiume, il ponte sul fiume Ippari. I dettagli in questo servizio. Conseguiranno grandi interventi a seguito del piano varato dal commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, su proposta del dirigente del settore lavori pubblici e infrastrutture, Carlo Sinatra, per un importo da 13 milioni e 400 mila euro si daranno tante risposte al territorio ragusano. Nello specifico, 770 mila euro verranno impiegati per la rete viaria provinciale, 800 mila euro per mettere in sicurezza le strade provinciali, 200 mila euro invece per la segnaletica delle strade provinciali, 440 mila euro per lavori di regimentazione delle acque meteoriche a protezione delle strade, 350 mila euro invece andranno ai lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari, sulla strada provinciale 18, la Vittoria Santa Croce Camerina. Lavori di manutenzione straordinaria per 1 milione e 90 mila euro per la SP 55, la gerratana noto, 835 mila euro invece per le strade provinciali 37, ovvero la Scicli Santa Croce Camerina e la SP 124 riguardante la circonvallazione di Santa Croce Camerina e infine 495 mila euro per la SP 39, la Scicli Donna Lucata. Il piano prevede anche diversi interventi di manutenzione nelle scuole, 700 mila euro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici, 200 mila euro per gli impianti antincendio e 200 mila per gli impianti elettrici, nonché 800 mila euro per i lavori di completamento del seminterrato dell'Archimede di Modica, 500 mila euro per l'istituto alberghiero Principi Grimaldi di Modica, 450 mila euro per il Ferreris di Ragusa, 200 mila per l'istituto tecnico Gaiardi, sempre della città di Ragusa e 500 mila euro per l'istituto Lapira di Pozzallo, 1 milione e 200 mila euro per l'istituto Galilei di Modica. Gli interventi sono in programma per il 2020 e il 2021. E dal piano destinato ai lavori delle strade nella provincia di Ragusa passiamo invece al piano asfalto riguardante le strade della città della Contè, infatti l'amministrazione comunale di Modica ha comunicato già un piano di interventi che coinvolgerà le arterie della città. Maggiori dettagli in questo servizio. Nuovi interventi di ripristino del manto stradale nella città di Modica, nello specifico nel quartiere Sorda, ad essere coinvolta la via nazionale, le traverse limitrofe, via del campo sportivo, via Furio Camillo, via Cornelia, via Peppino Impastato, via Trani, via San Giuliano. Queste strade saranno interessate dai lavori di scarificazione e di messe in posa del nuovo manto stradale. I lavori termineranno prima dell'inizio del nuovo anno scolastico in modo da non creare disagio al traffico. Dopo aver lavorato in altri punti della città, ha commentato il sindaco di Modica, Ignazio Abate, ora è arrivato il turno del quartiere Sorda e in particolare di alcune vie le cui condizioni rendono indispensabili i lavori, anche per la loro centralità e l'elevato numero di veicoli che il manto deve sopportare quotidianamente. Le strade in questione sono particolarmente usurate, consapevoli che anche altre arterie necessitano del medesimo trattamento. Abbiamo cercato di privilegiare, sottolinea Abate, quelle in condizioni peggiori. Il monitoraggio del resto dell'enorme patrimonio viario che abbiamo a Modica però continua e nel crono programma stilato sono già programmati analoghi lavori in altre zone. In occasione dell'avvio di questi lavori, inoltre, verranno installati i nuovi marciapiedi nella zona del plesso Denaro Papa della Raffaele Poi Domani, dove l'anno scorso sono arrivate delle lamentele per la pericolosità, soprattutto in prossimità dell'entrata e dell'uscita delle elezioni. Conclude il sindaco di Modica, Ignazio Abate, che annuncia che questo piano asfalto inizierà dal 3 settembre, ma si concluderà, sottolinea il sindaco Abate, prima dell'inizio dell'anno scolastico. E sono stati sospesi i lavori previsti per oggi al Marina di Marza in riferimento ai canaloni e alle SAI a darne notizia un gruppo di residenti. Da quanto si apprende, il Comune ha avviato un'interlocuzione per risolvere il problema. Sentiamo. L'intervento che si sarebbe dovuto tenere oggi ai canaloni di Ispico, ovvero quelle SAI del basso piano ispicese, è stato sospeso. Pare infatti che sia in corso in queste ore e anche nelle ore della sera un briefing tra il Comune e la ditta per studiare un piano di interventi. Dai indiscrezioni che arrivano dai residenti, pare che il Comune voglia prendere in mano la questione una volta per tutte per risolvere l'annosa questione. In effetti già in passato il sindaco di Ispica, Pierenzo Murai, aveva detto che i problemi che si registrano ogni anno nel basso piano ispicese andavano risolti una volta e per tutte. Nei giorni scorsi ad intervenire era stata anche l'associazione Confronto che aveva annunciato non solo l'intervento che si sarebbe dovuto tenere oggi, ma aveva esortato l'amministrazione comunale ad aprire un dialogo profico con tutti i soggetti interessati, oltre a chiedere un incontro pubblico, ovvero un consiglio comunale aperto per discutere sul tema. Il sindaco Murai, contattato da noi, non ha risposto al telefono, ma nelle giornate precedenti aveva comunque sottolineato che avrebbe messo in campo tutte le azioni volte alla risoluzione del problema, soprattutto garantendo il rispetto della normativa vigente in materia. Ci spostiamo adesso a Comiso perché alcuni residenti lamentavano la presenza di erbacce nei pressi delle proprie abitazioni, ma anche sui marciapiedi. Le lamentere avevano trovato sfogo anche su Facebook, sui social. L'amministrazione fa sapere che si è già provveduto alla scerbatura in alcune aree, mentre c'è una pianificazione dei lavori di scerbatura per quanto riguarda gli altri quartieri in cui ancora non si è intervenuti interessati dal problema. Il servizio. Erbacce incolte sui marciapiedi che impediscono anche la percorrenza. È questa la situazione che si presenta in alcuni marciapiedi, in alcune strade di Comiso, situazione che hanno segnalato i residenti anche sui social. Ironizzano in alcuni casi dicendo se si aspetti il Natale per addobbare queste erbe che in alcuni casi sono anche alte. L'amministrazione ha prontamente risposto. Il sindaco Maria Rita Schemmeri ha detto che le segnalazioni sono giunte all'amministrazione che ha preso a carico la problematica. In alcuni casi è già intervenuta, in altri casi invece ha programmato gli interventi. Per quanto riguarda questi interventi sono già stati programmati, sono stati segnalati alla ditta e quindi alcuni interventi sono già stati fatti, altri nei prossimi giorni saranno fatti. Maggiori dettagli vengono forniti dall'assessore all'ecologia del Comune di Comiso, Biagio Vittoria. il quale, contattato da noi, ha dichiarato che il diserbo avviene in maniera ciclica e in maniera continuativa. A luglio, prosegue Vittoria, è stata effettuata la scerbatura in tutta la città ed è chiaro che il territorio è vasto e turnando i quartieri si verificano criticità di questo tipo che verranno risolte in breve tempo, facendo allusione alle zone che vengono menzionate dai residenti su Facebook. La programmazione, conclude, Vittoria ci permetterà di superare questi aspetti, essendo sempre presenti. Per esempio, l'intero quartiere delle Grazie è stato soggetto di recente alla scerbatura. Un intervento speciale inoltre è stato effettuato nelle cave Grazie. Conclude l'assessore Vittoria. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria, ma restate con noi perché dopo parleremo dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista a Ragusa. Oggi il clou dei festeggiamenti, i momenti più significativi verranno trasmessi in diretta a Mondovisione dalle 18 e 15 dalle nostre telecamere. Inoltre parleremo anche dell'allerta gialla in Sicilia, piogge e temporali fino a domani. Pubblicità a tra poco. Bentornati in studio. Come abbiamo detto prima della pubblicità, c'è grande attesa oggi a Ragusa per il clou dei festeggiamenti in onore a San Giovanni Battista. I momenti più significativi della festa verranno trasmessi in diretta a Mondovisione dalle 18 e 15 dalle nostre telecamere. La città di Ragusa attende l'uscita festosa del santo patrono San Giovanni Battista. Oggi è il momento clou dei festeggiamenti in onore al santo, che nel tardo pomeriggio sarà portato in processione per alcune vie del centro storico. Le nostre telecamere seguiranno le fasi salienti della festa a partire dalle 18 e 15, con Veronica Puglisi e Francesco Adamo che racconteranno i momenti più significativi della celebrazione, dall'uscita del simulacro e dell'arca santa fino al rientro in cattedrale, preceduto dal tradizionale saluto ai fedeli alla città del Vescovo di Ragusa, Monsignor Carmelo Cuttitta. La città segue con fervore i festeggiamenti che hanno preso il via la settimana scorsa con la traslazione del simulacro nel transetto sinistro della cattedrale per la venerazione dei fedeli e l'inizio del novenario. Tante le iniziative che si sono succedute nel corso di questa settimana, eventi religiosi, folcloristici e culturali. A seguire i festeggiamenti il corpo bandistico San Giorgio, città di Ragusa, diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo e il corpo bandistico Alessandro Scarlatti di Chiara Montegulfi, diretto dal maestro Sebastiano Gurrieri. La festa verrà trasmessa in diretta a Mondovisione oggi sui canali 11 e 511 Full HD di Video Mediterraneo, in diretta streaming sul sito www.videomediterraneo.it e sulla pagina ufficiale di Video Mediterraneo su Facebook. Potrete interagire con noi chiamando il numero 339 1826140, aggiungendo il prefisso più 39 se chiamate dall'estero. Adesso un servizio del nostro ufficio commerciale. Torna il Campus Internazionale per il Casting del Cinema, con il claim di Mostra Cichisei. Prendono vita tre giorni di Campus il 4, 5 e 6 ottobre in Sicilia. C'è ancora possibilità di iscriversi in quanto ci sono gli ultimi posti disponibili. Presenti agenzie di moda di Milano, casting director di Dolce & Gabbana, manager attori e attrici, casting per la rivista di moda Mary Claire, casting per il sequel di Ragazzi Fuori 20 anni dopo. Formazione e possibilità unita insieme per darti delle opportunità uniche sul territorio. Gli organizzatori forniscono un infoline al 345 46 26 875 e il 349 39 11 983, dalle 10 alle 20 tutti i giorni. Un'occasione unica per il Sud Italia. Tre giorni di formazione intensa che serviranno a scegliere nuovi talenti per la moda, il cinema e la TV. I corsi sono abbinabili e ogni candidato può partecipare a più corsi differenti. Per la categoria Cinema TV all'interno del Campus si terranno in esclusiva i casting delle più importanti produzioni italiane. Presenti due importanti casting director in una notissima casa di produzione romana, Alessandra Cartanese e Elisabeth Skinner. Ospiti per il settore cinema nei giorni 6 e 7 ottobre Nini Bruschetta e Alfredo Libassi. Per la moda i corsi saranno tenuti da Decio Santos, casting director di Dolce Gabbana, notissimo regista e tra i casting director più importanti del Milano Fashion Week, oltre che di tantissimi marchi dell'alta moda mondiale. Sono previste due tipologie di corso, il primo top model e il secondo modelli e modelle e fotomodelli e fotomodelle. Per la categoria top model saranno selezionati uomini e donne direttamente da una delle più importanti agenzie in Europa, la Brave Models di Milano, presente al Campus. Per i fotomodelli e le fotomodelle invece saranno selezionati quelli che diventeranno i protagonisti dell'uscita di Mary Claire del mese di novembre 2019. A tutti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione al Campus che sarà consegnato direttamente da testimonial. Tre giorni da vivere a Patti, in provincia di Messina, in uno dei migliori alberghi del capoluogo e la partecipazione comprende anche il vitto e l'oggio. Una reale occasione per costruire un futuro con alte competenze professionali. Mal tempo, allerta gialla in Sicilia, piogge temporali fino a domani. La protezione civile regionale ha emesso il bollettino di allerta mediovalido appunto da oggi pomeriggio alla mezzanotte di domani per rischio idrogeologico di livello giallo in Sicilia. Un'area di bassa pressione in avanzamento dalla Sardegna, infatti verso la Sicilia, continuerà ad apportare una marcata instabilità atmosferica favorendo lo sviluppo di fenomeni temporaleschi che localmente assumeranno anche carattere di forte intensità. I fenomeni potrebbero determinare anche delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate sul bollettino anche del Dipartimento della Protezione Civile. Sabato tornerà invece a splendere il sole in tutta Italia. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.